amici buongiorno bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video finalmente mi sono armata anch'io di microfono e oggi andremo a provare la carbonara da maritozzo rosso un ristorante a tre stevere che dicono faccia una delle migliori carbonari di roma io non l'ho mai provata quindi ancora non so dirvi se è così o meno però l'assaggio e vi dico com'è a tre stevere poi è pieno di posti che fanno la carbonara però ci sono quelli più turistici e quelli meno quindi se non è per mangiare quella veramente buona bisogna andare nei posti meno turistici speriamo che questo sia uno di quelli è vero che crema Sì Ho appena finito di mangiare la carbonara da maritozzo rosso Io devo dire una delle più buone che io abbia mangiato Crema squisita Guanciale croccantissimo, cotto benissimo E la pasta al dente cotta perfettamente Veramente è una delle migliori come ho mangiato Poi comunque hanno la cucina a vista Quindi tu se stai all'interno vedi tutto quello che fanno loro in cucina Quindi te la vedi cucinare sotto gli occhi La cosa è che hanno anche piatti di carta, forchette di carta, becchieri di carta Tutto quanto ecologico Quindi una volta che hanno finito prendono lo spreco e ne buttano tutto quanto al secchio E questa è una bella cosa Prezzo 13 euro Un po' alto è vero ma veramente ne vale la pena Cioè rispetto alla carbonara da 11 euro che magari dici sì 11 euro va bene Questa ne vale veramente la pena Io penso che riandrò proprio a mangiarla di nuovo lì Comunque se devo dare un voto a questa carbonara do un bell'otto e mezzo su dieci Lo merita tutto Adesso proverò la carbonara di Da Otello Dicono che sia molto buono anche quello Quindi vado e la provo Allora carbonara di Da Otello mangiata Ma purtroppo non mi ha soddisfatto più di tanto La location bellissima Cioè tipica, accogliente, personale, gentilissimo La carbonara non mi ha colpito perché c'era il guanciale troppo molle Cioè non era croccante E anche l'uovo purtroppo era giallognolo Cioè sembrava un po' anemico Non era di quel bel rosso della carbonara che ti aspetti Nel complesso do un 6 su 10 Perché comunque non era proprio Cioè non faceva schifo Però secondo me è un posto più turistico Che un posto di nicchia dove vanno i romani Bene, adesso che ho mangiato in tutti e due posti Posso dire la mia E secondo me vince a mani bassissime proprio Maritozzo rosso Ma in tutto e per tutto Dalla location al cibo La cordialità dello staff Quindi se volete mangiare una carbonara buona E una vera carbonara a Roma Andate lì Il video può finire qui Quindi io vi invito a iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E a lasciare un bel like Fatemi sapere qua sotto nei commenti Un posto dove si mangia la più buona carbonara di Roma Secondo voi Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti